A San Giorgio di Pesaro una chiesetta di notevole valore architettonico ancora nei ricordi dei suoi fedeli frequentatori si trova in stato di abbandono ed è a rischio pronto. A Pesaro taglio del nastro per il nuovo mammografo del distretto sanitario di Vianenterra il dispositivo è costato oltre 250 mila euro ed è attivo dallo scorso 12 marzo. Ex zuccherificio termi di Carignano zone commerciali delle 270 osservazioni a nuovo PRG l'ufficio ne ha accolte più della metà. A Luigi Banconi il premio passaggio a Barbara Stefanelli, il premio giornalistico Andrea Barbato, ad Alessandro Cattelan il riconoscimento di fuori passaggi saranno consegnati a Fanno nella dodicesima edizione dell'evento in programma dal 26 al 30 giugno. Dall'amore per il territorio a quello per le poesie il fanese Walter Trebbi è il vincitore della dodicesima edizione del premio nazionale Arte Inversi. Guarda chi c'è alla scoperta delle nuove frontiere dell'Aircare con il parrucchiere Massimo Masini. Stasera la nuova puntata su Fanno TV. Da domani al Via Pianetalma, nuovo programma dedicato alla squadra Granato. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'appello di alcuni cittadini di San Giorgio di Pesaro che chiedono la restaurazione della chiesetta prima che sia troppo tardi. Marco Del Rico. Ci troviamo a San Giorgio di Pesaro lungo la strada provinciale dove si trova una chiesetta da anni in stato di abbandono. Ce ne parleranno l'architetto Gabriele Polverari, presidente dell'associazione ProArt e colui che ha scoperto la grotta ipogeo di Piagge e Bruno Branchini, un cittadino del luogo. È un piccolo gioiello dal punto di vista architettonico, per cui è un peccato lasciarla così in questo stato di abbandono assoluto. Anzi, dirò che secondo me ancora è in piedi e già questo è un miracolo. Però bisognerebbe anche pensare di ristrutturarli in qualche modo. Tra l'altro so che la popolazione, qui la gente del Sacramento, ma non solo del Sacramento, anche di San Giorgio e anche di luoghi qui vicini sarebbero contenti che venga sistemata anche perché è stata attiva negli anni Sessanta, un certo periodo. Poi so che comunque sia tutti i sabati veniva celebrata la funzione e il 13 di agosto si festeggiava la festa di Santa Filomena. Ecco, è rimasto nella memoria delle persone, ma anche poi avere insomma una struttura di questo genere, così abbandonata, così faticiente, un vero peccato, cioè sarebbe anche una fonte di turismo poterla sistemare finché è possibile perché poi quando praticamente si dovesse cedere completamente chiaramente dopo non se ne fa più niente. Per cui dal momento che ancora siamo in tempo io chiedo che venga comunque in qualche modo presa in considerazione questa idea di ristrutturarla. All'interno della chiesetta è stato ritrovato anche un antico dipinto che Bruno Branchini custodisce all'interno di un deposito nei pressi della chiesetta abbandonata. Questo dipinto quindi era... È stato recuperato da mio fratello, da me, portato qui e qui è rimasto senza... Non è che io so che valore ci abbia qualcosa, però... L'ha salvato insomma la Vincuria. L'ha salvato dalla Giubba anche per paura che fosse caduto qualcosa che dopo magari andava via, andava disperso. Ma dopo altri quadri sono stati portati nella chiesa di San Giorgio, altri due a razzi così, gli ha preso Don Giorgio. Questa mattina a Pesaro nel distretto sanitario di Via Nanterre è stato inaugurato un nuovo mammografo di ultima generazione. C'era per noi Marco Lunigro. Taglio del nastro per il nuovo mammografo del distretto sanitario di Via Nanterre a Pesaro. Si tratta del primo macchinario per la diagnostica senologica acquistato dalla Regione Marche con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un investimento di oltre 250 mila euro che lavora a pieno regime dal 12 marzo. Stiamo investendo tantissime, è una scelta condivisa da tutta la Giunta regionale sul Pesarese per evitare e per limitare l'afflusso verso altre regioni e soprattutto per cercare di limitare la mobilità passiva ma garantendo un servizio importante. Questo è un segnale che io voglio sottolineare per la delicatezza della condizione dei servizi sanitari nel Pesarese ma soprattutto per la carenza di fondi che il servizio sanitario deve affrontare. Spesso si tralascia il fatto che l'invecchiamento della popolazione fa aumentare notevolmente la domanda dei servizi sanitari e con un sistema italiano di fiscalità che è arrivato al massimo per le persone fisiche e per le imprese e un grande debito pubblico si fa sempre più fatica ad aumentare il finanziamento. Quindi per fortuna quest'anno il governo lo ha aumentato i 3 miliardi per tutto il nostro paese quindi c'è un segnale positivo ma chiaramente deve anche contare la riorganizzazione l'efficientamento del sistema e soprattutto anche l'appropriatezza delle prestazioni. Il nuovo mammografo è uno strumento efficace nel miglioramento della sicurezza e accuratezza diagnostica permette l'acquisizione di immagini in tomosintesi per esami di secondo livello e può essere affiancato alla risonanza mammaria. Entro maggio saranno oltre 2.000 le prestazioni erogate con il nuovo mammografo di Viananterre. Questo macchinario è il top gamme delle mammografi, può servire sia per fare lo screening che per fare le diagnosi cliniche. Ha una tempistica di esecuzione dell'esame molto più rapida e ha una precisione nel momento in cui individua una lesione di focalizzare il punto in cui c'è questa lesione per fare un discernimento se si tratta di una lesione benigna, di un artefatto, di una lesione maligna. Quindi a livello di risposta nell'esame mammografico è molto più preciso e puntuale rispetto al mammografo che c'era precedentemente. Chiaramente essendo più rapidi ci permette di utilizzare un tempo più breve dei 15, 20, 25 minuti di un altro esame. Quindi se in una giornata riuscivamo a fare un tot numero di donne, in questo caso aumenterà il numero delle prestazioni erogate giornalmente e quindi potremmo essere in grado di ridurre la tempistica sui tempi d'attesa per questo tipo di esame. Il nuovo PRG adottato dal Consiglio Comunale di Fano sta per essere integrato con le osservazioni presentate dai cittadini. Delle 270 presentate ne sono state accolte più della metà. L'assessore Cristian Fanese ha annunciato all'ex zuccherificio nascerà un polo logistico per l'alimentare. Massimo Foghetti. Nuovo passo avanti per il piano regolatore che è stato adottato dal Consiglio Comunale. Siamo allo stadio delle osservazioni. Assessore, qual è il parere della cittadinanza attraverso l'esame delle osservazioni per questo nuovo strumento urbanistico? Nel PRG della giunta precedente, la giunta Guzzi, arrivarono 1.060 osservazioni. Per questo piano regolatore sono arrivate solo 270 osservazioni. Questo piano regolatore taglia tantissimo terreni edificabili. Questo permette da una parte di ridurre il consumo di suolo, dall'altra di venire incontro a tante richieste che ci arrivano dalle persone, che è quella di pagare meno IMU. Quindi abbiamo tolto tanto terreni edificabili anche per questa ragione. Questo è già un dato di fatto che incide nelle bollette dei cittadini, nelle tasse che i cittadini pagano già nel prossimo giugno 2024. Anzi, è inciso anche per la verità nell'ultima rata del 2023. Ogni frazione, ogni quartiere avrà la sua community hub, dove le persone si possono radunare, si possono concentrare, possono avere delle relazioni deboli perché la crescita deve essere anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale e dell'aggregazione. E poi ci sono temi molto importanti, fondamentali per lo sviluppo di una città, che sono legati alle zone industriali, che amplieremo, ma anche legati al commercio, che ridurremo. E anche legati a due o tre temi fondamentali per la città. Abbiamo previsto la possibilità di fare realizzare delle terme anche con strutture ricettive e anche una parte di sanità che potrebbe essere ricavata all'interno di questo progetto. Non c'è nessun cavillo che blocca le terme, manca forse purtroppo la volontà di procedere a realizzare un progetto che noi comunque accettiamo e che riteniamo molto importante come opportunità di crescita della città e come sviluppo anche turistico della stessa. Area risorsa o area problema, anche quella dello zuccherificio? Andremo ad abbattere quegli scheletri. Si realizzerà, secondo il progetto che ci hanno anticipato e secondo la richiesta che ci è giunta, un grande impianto, diciamo plesso, dove avrà luogo un centro logistico per l'alimentare, quindi dedicato ai supermercati, tra virgolette, al genere alimentari, che non inquina. Finalmente porremo fine al degrado di una zona lasciata così attraverso previsioni sbagliate del passato e che noi andiamo a correggere. In conclusione delle osservazioni, quante ne verranno accolte? Ovviamente votano i consiglieri comunali, per cui a loro è spetta dover e poter decidere se quali accogliere e quali no. L'ufficio ha dato un parere positivo alla stragrande maggioranza, al 55% oltre di osservazioni e questo sicuramente è già un buon risultato perché le osservazioni servono perché l'amministrazione comunale collabere con i cittadini a progettare una città nuova. Primi dieci anni per il comune di Vallefoglia, ieri il sindaco Palmiro Ucchielli ha tenuto una conferenza stampa per celebrare questo traguardo. Tagliato il traguardo dei primi dieci anni per Vallefoglia, un comune con quasi 15.000 abitanti, istituito nel gennaio 2014 con la fusione dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo e Lizzola, per l'occasione il sindaco Palmiro Ucchielli ha convocato una conferenza stampa per presentare il bilancio delle attività svolte in questi anni. Sono stati anni in cui la città di Vallefoglia ha svolto un ruolo centrale, è cresciuta, è cresciuta in attività produttive grazie ai nostri imprenditori, è cresciuta dal punto di vista delle nascite, grazie alle famiglie, molte delle quali del sud Italia e del sud del mondo, è cresciuta con tante tante opere pubbliche. Tra le opere realizzate il comune unico a Montecchio, la nuova piazza e il teatro Giovanni Santi di Bottega, inaugurato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, notevole il lavoro svolto nelle scuole completamente rimesse a norma e ampliate, interventi anche sugli impianti sportivi come al Pala Dionigi, dove presto inizieranno i lavori di ristrutturazione, operazioni anche su asfalti e piste ciclabili per migliorare la viabilità, potenziata la rete delle telecamere per la sicurezza e gli impianti di illuminazione pubblica. Notevole il lavoro svolto in questi anni, dice il sindaco Chielli, lasciamo un comune con i conti in ordine. Lasciamo anche un buon avanzo, 10 milioni di avanzo all'amministrazione, l'utilizzo di 4 milioni di avanzo e abbiamo avuto fortuna anche dal punto di vista delle fusioni, perché è chiaro che abbiamo 1 milione e 6 all'anno anche per i prossimi 5 anni, a prescindere da chi governerà i prossimi 5 anni. Quindi direi che lasciamo una città con un'ottima salute dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione. Diciamo che più di così non sapevamo cosa fare, abbiamo fatto di tutto e di più e speriamo che la gente possa apprezzare, anzi sono tantissimi che mi chiedono di ricandidarmi, io ho detto a tutti i buoni, aspettiamo il decreto dopo l'approvazione della legge alla Camera e al Senato e poi deciderò insieme agli altri come ho sempre fatto. E mentre Ucchiali valuta un terzo mandato, Andrea Torcoletti lancia la sua candidatura a sindaco presentando la lista civica Vallefoglia Cambia. Il nostro progetto è un progetto di una lista civica aperta a tutti, aperta a tutti coloro che a diverso titolo hanno un ruolo, lavorando o anche svolgendo azioni di volontariato e costituiscono il tessuto sociale di Vallefoglia. Vogliamo partire dal basso, dare voce a chi oggi non ha voce, vogliamo coinvolgere i giovani senza dimenticare le anziani e le persone fragili. Vogliamo costruire una politica concreta, pragmatica ed inclusiva. Vogliamo che a Vallefoglia ci sia di nuovo voglia di partecipare attivamente ed incidere sulla vita dell'amministrazione pubblica. Massima attenzione sul tema dell'ambiente e non solo. Sicuramente massima attenzione sul tema dell'ambiente. Io sono anche Presidente dell'Associazione Diversamente. Negli ultimi quattro anni abbiamo portato avanti tematiche ambientali con grande attenzione alla gestione dei rifiuti, alle politiche di gestione dei rifiuti. Abbiamo combattuto per evitare che venisse costruito il digestore anaerobico a Vallefoglia. Abbiamo presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che su richiesta di Marche Multiservizi verrà discusso al TAR delle Marche. Abbiamo combattuto e stiamo combattendo per evitare che Aurora e ancora una volta Marche Multiservizi costruiscano uno scempio nel nostro territorio come il progetto della discarica di riceci. 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Anche qui abbiamo presentato un ricorso. Ma la cosa che mi ha colpito e ci ha colpito ed è stata una motivazione forte per creare questo nuovo progetto è vedere quanta distanza esiste tra i cittadini e chi ci amministra. Vedere come ci sia poca partecipazione, dialogo, confronto, addirittura poco rispetto. Noi in quattro anni non siamo stati in grado di confrontarci con l'amministrazione di Vallefoglia. Ci hanno ignorato, penso forse sperando che noi mollassimo. Oggi siamo qui ancora più motivati e vogliamo presentare un nuovo progetto che dia spazio a noi, ai cittadini, all'interno dell'amministrazione di Vallefoglia. Lupi che si avvicinano sempre più ai centri abitati. I video che vi mostriamo questa sera sono stati inviati da San Lazzaro di Fano, dal signor Livio. Siamo in Via del Ponte e come potete vedere dalle immagini delle telecamere, due lupi l'altra notte sono stati immortalati mentre si aggiravano tra le auto parcheggiate. Un altro telespettatore al cimitero di Losciano ha scattato una fotografia ad una tomba, terra abbandonata da anni. Nessuno fa o dice niente, ci ha scritto. Mentre qualche anno fa la direzione vietava rami che sorgevano dalla tomba, ora va tutto bene? E passiamo agli asfalti con due video che ci arrivano da Sassonia di Fano. Partiamo dal primo. Stiamo transitando in Via Ruggeri a Fano. Io spero che qualche candidato sindaco ci metta le mani nell'asfaltatura, nei programmi elettorali. È una roba indescrivibile. E da poco distante una telespettatrice denuncia lo stato di degrado dell'asfalto del parcheggio dietro la stazione ferroviaria. Dietro alla stazione, dietro, praticamente il parcheggio che è anche dello sport park, vedo che hanno messo il catrame sulle grosse buche. Questo non mi fa ben pensare, anche se potrebbe risolvere nell'immediato il problema, però mi fa pensare che l'asfaltatura di quest'area che è stata promessa, che era stata promessa da marzo, credo proprio che non si farà più, visto che hanno rattoppato le buche. E a me non sta bene. Possibile che nella scala della priorità di Fano mettono il nuovo anfiteatro Rastat, che non faceva male a nessuno e non era di certo ammalorato, e non asfaltano le strade che avrebbero bisogno. Proprio subito ci spaccano le macchine. Cos'è? Ci pagano i danni, gli ammortizzatori? È una vergogna. È una vergogna. E questo è l'ennesimo video sul parcheggio dello sport park, per non parlare poi della strada di Viale Ruggeri. Allora, stamattina Fadesi ha detto che ci arrivano i soldi per le scogliere che le faranno? Saremo a vedere. E l'assessore Brunori ci ha fatto sapere che quel parcheggio è stato inserito nel nuovo piano asfaltature. L'intervento però sarà diviso in due step, ha precisato. Prima si procederà grazie a un appalto da 300 mila euro alla sostituzione dei cordoli e poi appunto all'asfaltatura. Venerdì Santo a Cantiano si rinnova la tradizione con la turba, la suggestiva rappresentazione della Passione di Cristo, che prevede iniziative fin dalle 5.30 del mattino con la tradizionale visita delle sette chiese. L'iniziativa è stata presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord. Il 29 marzo, che è venerdì santo, si terrà a Cantiano la tradizionale sacra rappresentazione della turba. La rievocazione della Passione di Gesù Cristo in forma di teatro itinerante, che rappresenta un po' anche l'aspetto identitario del paese, in quanto è una tradizione che ci ritroviamo da secoli e che portiamo avanti con tanta passione e con tanto volontariato. Avviene, diciamo, si realizza la sera in tre luoghi del paese, quindi è una sorta di teatro itinerante in cui sia i personaggi sia gli spettatori si muovono e quindi entrano nel vivo della rappresentazione stessa. Abbiamo nei giardini pubblici allestito le nostre classiche scenografie, che sono il Cenacolo, dove avviene l'ultima cena e la cattura del Cristo. Poi ci si sposta in piazza, dove è stata già allestita, è già tutto pronto, la scenografia che riguarda il processo, dove ci sono il Sinedrio, dove c'è il Pretorio e dove c'è la reggia di Erode. E poi l'ultima parte, dopo la condanna del Cristo, avviene lungo una salita che però gli spettatori vedono, diciamo, da una piazza sottostante molto suggestiva, una fiaccolata di circa 200 persone, fino ad arrivare ai ruderi della Rocca Gabrielli, dove avviene, diciamo, il sollevamento delle tre croci che vengono illuminate. È quindi un evento molto suggestivo, molto spettacolare, che, come detto, portiamo avanti in questa forma da circa 80 anni e che ha recuperato la precedente processione del Cristo morto, che avveniva sempre però con personaggi in costume, tra virgolette, che non recitavano ma mimavano le scene lungo le vie del paese. Conosci l'uomo che si fa passare per Messia? Torna venerdì la Sacra Rappresentazione della Turba, che è il principale momento di orgoglio e identità della comunità kantianese. Ecco, da oltre 86 anni questo momento mette assieme oltre 200 figuranti di una rappresentazione scenica della passione, della morte e della risurrezione del Cristo. In un palcoscenico naturale, che è il centro storico di Kantiano, in tre momenti scenici ben distinti, ecco, va in scena questa rappresentazione e torna alla sua veste classica, dopo le problematiche, purtroppo, dell'alluvione e la prima turba dell'anno scorso, con qualche criticità, quest'anno torniamo alla nostra normalità. Quindi è un momento, è uno dei due grandi eventi, assieme alla Fiera dei Cavalli, che contraddistingue la promozione turistica del Comune di Kantiano e ormai oggi vanta un palcoscenico internazionale in cui la turba è presente tra le Sacre Rappresentazione, sia nazionale che europee. Quindi ecco, un'occasione per rivivere, sia dal punto di vista liturgico, ma anche dal punto di vista scenografico, di rappresentazione teatrale, uno dei momenti principali della vita comunitaria e fedele, ecco, di ognuno di noi. Sempre domani sera alle ore 21 a Saltara si svolgerà la tradizionale processione del Cristo morto. Come 177 anni fa, i soldati romani a piedi e a cavallo apriranno il corteo e insieme al centurione scorteranno il Cireneo, un personaggio caratteristico della processione di Saltara. Il Cireneo, che porta una croce molto pesante, viene rappresentato da un penitente sconosciuto, scalzo e incappucciato, avvolto da una tunica scarlatta. Il corteo proseguirà con le quattro confraternite del paese, gli apostoli, le piedonne, i falciulli, che porteranno i simboli della passione, e i popolani. Prima e dopo la processione sarà possibile visitare la chiesa del Gonfalone, dove è allestita la mostra Vero Corpo. L'artista Giulietta Geller presenterà sia i suoi disegni sul corpo umano per lo studio di una scultura dedicata al Cristo di Saltara, sia il cortometraggio della sua performance Requiem per un sudario vuoto. Si chiama Reali Meraviglie, del progetto curato dall'Associazione Umanesimo Artificiale per Pesaro 2024. Diversi gli appuntamenti in programma. Il primo si terrà alla Pinacoteca San Domenico di Fano. Dal 29 al 31 marzo alla Pinacoteca San Domenico di Fano parte Reali Meraviglie, il progetto curato dall'Associazione Umanesimo Artificiale per Pesaro 2024, un ciclo di opere installative ed esperienze formative e immersive che mettono al centro le tecnologie esponenziali del presente e del prossimo futuro. Reali Meraviglie è un progetto di dossier che è stato fortemente voluto all'interno della scrittura del testo che fu presentato in occasione della candidatura, ma effettivamente aver trovato Umanesimo Digitale come soggetto che ha sviluppato in questo anno 2023 il progetto, per noi è stato un partner perfetto da tanti punti di vista. Quindi si incastrato perfettamente, ha interpretato quelli che erano gli obiettivi, quelli che erano le traiettorie che volevamo rappresentare all'interno di Capitale Italiano della Cultura che, come lo ricordo, ruota su tre grandi concetti arte, natura e tecnologia. Su questa parola abbiamo lavorato e abbiamo cercato di dare il meglio grazie anche a Umanesimo Digitale. Diversi gli eventi da marzo a luglio artisti internazionali e cittadini saranno invitati a riflettere sui principali temi d'indagine attraverso la creazione di lavori per Pesaro 2024, gli eventi si svolgeranno in varie sedi come Pesaro, Fano, Pergole e San Costanzo. 29, 30 e 31 marzo alla Pinacoteca San Domenico di Fano prevede questa performance degli artisti cyborg Neil Arbinson e Paul Lombarte. Neil Arbinson è quell'artista cyborg che da vent'anni ha un'antenna impiantata sul cervello attraverso il quale percepisce delle frequenze di colori che trasforma in dei microtoni che lui sente attraverso l'interno del suo cervello. Sarà questa performance unica, molto particolare per cui costruiremo questo pianoforte e quindi nelle giornate di venerdì e di sabato la cittadinanza, chi vuole, può venire ad aiutare gli artisti a costruire questo pianoforte che poi Neil utilizzerà sabato sera per suonare in questa performance per cui ci saranno delle lampadine che si illumineranno con dei colori e la cosa particolare è appunto che Neil Arbinson attraverso questa antenna puntando l'antenna sulle lampadine colorate ci sarà questo dialogo tra la parte analogica del suono del pianoforte e la parte elettronica che sono fondamentalmente queste frequenze di colori che lui ascolta e che verranno attraverso il bluetooth del suo microchip verranno espanse nell'impianto audio. Il Comitato Scientifico di Passaggi Festival ha definito i premi che saranno assegnati nella dodicesima edizione dell'evento dedicato alla saggistica in programma a Fano dal 26 al 30 giugno e che fa parte delle iniziative di Pesaro Capitale Italiana della Cultura il primo riconoscimento ad essere conferito sarà il premio fuori passaggi che giovedì 27 giugno alle 21.30 nella cornice del Pincio sarà assegnato al conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan per la sua coraggiosa impresa culturale ovvero la nascita della casa editrice a Cento nello stesso giorno alle 22.30 in piazza 20 Settembre sarà il sociologo Luigi Manconi a ricevere il premio passaggi infine venerdì 28 giugno alle 21.30 la piazza ospiterà la cerimonia di conferimento del premio giornalistico Andrea Barbato stabilito in accordo con la famiglia del Popolare giornalista Rai il riconoscimento andrà alla giornalista Barbara Stefanelli dalla saggistica passiamo alla poesia con il fanese Walter Trebbi che ha vinto la dodicesima edizione del premio nazionale di poesia l'arte in versi con l'opera dal titolo Vestito di niente Cristiana Guerra è un amante delle periferie ha svolto ricerche e scritto testi per valorizzare il territorio fanese di Cucurano esattamente Walter Trebbi è un appassionato di poesie che richiamano i ricordi la malinconia, le gioie e i dolori dei tempi passati si è aggiudicato negli anni diversi riconoscimenti fino a quello assegnatogli recentemente nel contesto della dodicesima edizione del primo nazionale di poesia patrocinato dalla regione Marche dal titolo Arte in versi che riceverà il 22 giugno a Iesi Walter, lei è un poeta che cerca di usare la parola in modo creativo di recente ha ricevuto un premio di che cosa si tratta? Questo premio organizzato dall'associazione Euterpe si chiama Arte in versi il premio ricevuto è sulla sezione del dialetto di questo risultato ne sono onorato e fiero perché il primo ho ricevuto in dialetto ciò significa che la mia poesia Vestì de niente è stata apprezzata da una qualificata giuria In precedenza hai ricevuto anche altri premi? Sì io sono un poeta che scrive sia in italiano che in dialetto e gli altri premi ho ricevuto con poesie in italiano ricordo grande medaglia al concorso Alda Merini medaglia medaglia d'onore al premio penna d'autore ed altre mie poesie sono finite su antologie di livello nazionale Che cos'è il dialetto per lei? Rappresenta un importante ruolo oltre che uno scrigno che conserva la storia è anche la terminologia di arti e mestieri oramai scomparsi Ma non solo dialetto non solo poesie anche libri? Sì il mio percorso comincia nel 2017 partendo dai libri dando valore quello che era il mio territorio di Cucurano quindi la campagna ricerca storica su quelli che erano le voci parole proverbi appunto conosciuti e poi un racconto orale messo per iscritto di ricerche di quella che era la vita della campagna di un tempo Non a caso lei organizza anche incontri a Cucurano L'evento che organizzo insieme a Delvio Grilli si tratta di eventi culturali che hanno il fine della beneficenza siamo all'evento che organizziamo una volta all'anno più o meno nel mese di giugno siamo partiti dando valore dando spazio al libro di Sergio Schieroli l'ultima lettera che aveva come tema l'obiettivo di sensibilizzare appunto la tematica della malattia dell'Alzheimer poi abbiamo organizzato altri eventi cercando di valorizzare un'artista di Cucurano la Katia Cursini la soprano Katia Cursini venuta a fare un magnifico concerto dividendo la serata con Don Silvano Bracci raccontando il suo percorso di scrittore che già oramai ha oltre più di 20 libri tutti sono ingressi gratuiti tutti possono partecipare e anzi già siamo pronti stiamo già lavorando su quello che sarà il prossimo il prossimo evento tornando al dialetto quanto è importante tramandarlo tra i giovani sì perché in questo tempo in cui la tecnologia ha preso il suo percorso su quello che è la storia le caratteristiche di un territorio per me significa proprio vocalità identitaria di un territorio quindi uno sguardo a quello che è stata la storia di quello che è il nostro territorio anche il territorio del comune di Mondolfo sarà protagonista del set di Alex Bravo poliziotto a modo suo con la truppe impegnata a girare alcune scene sul lungomare nella giornata di sabato 30 marzo la serie le cui riprese sono iniziate da diverse settimane nella vicina Senigallia vede il famoso attore Marco Bocci vestire i panni di un ispettore di polizia dal talento ineccepibile e dalla vita privata decisamente caotica diretta da Beniamino Catena noto per successi come squadra antimafia e doc nelle tue mani la fiction sarà girata interamente nelle marche e coinvolgerà anche Marotta le puntate andranno in onda prossimamente su Canale 5 da domani 29 marzo il palinsesto di Fano TV si arricchisce del nuovo programma Pianeta Alma si tratta di un appuntamento con lo sport dedicato all'Alma Juventus Fano con ospiti e approfondimenti dedicati appunto al campionato di Serie D e alla squadra Granata a condurlo ogni venerdì sera sarà Andrea Amaduzzi invece in vista delle elezioni amministrative mercoledì prossimo 3 aprile alle ore 21 prenderà il via occhio al voto ospiti della prima puntata saranno i quattro candidati alle primarie del centro-sinistra nelle settimane successive poi andremo in onda ogni lunedì il telegiornale termina qui tra poco andrà in onda una nuova puntata di Guarda chi c'è che vedrà ospite il parrucchiere Massimo Masini seguirà uno speciale dedicato alla presentazione della lista dei candidati Lega Fano per Luca Serfilippi sindaco io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata Grazie a tutti